Sensibilizzare l'opinione pubblica a votare no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. E questa è la ragione dell'incontro organizzato dal Comitato per il No, sorto a Capodorlando nelle scorse settimane, e di cui fanno parte Antonio Matasso e Olga Nassis. L'incontro si è svolto alla Pinacoteca Comunale ed ha preso parte l'ex Presidente della Corte Costituzionale, Ugo Desiervo. I relatori hanno spiegato i motivi per cui la riforma, sottoposta al referendum confermativo, danneggerebbe la democrazia italiana piuttosto che migliorare l'attuale situazione. Ci sono da una parte le forze politiche che sono contro Renzi, le quali fanno le loro scelte, che sono scelte che non siamo noi a condizionare. Poi ci sono i tanti cittadini, i tanti promotori dei comitati del No che si sono mossi guardando cosa c'è scritto in questa proposta, andando a valutare davvero cosa c'è. La riforma della Costituzione, che si propone di ridurre il numero dei parlamentari, contenere i costi della politica e semplificare le procedure legislative grazie alla fine del bicameralismo perfetto, secondo i promotori del Comitato per il No farebbe il contrario di quello che proclama. È una modifica costituzionale che viene presentata in nome del contenimento dei costi e in realtà esso è assolutamente irrisorio. In nome della semplificazione viene complicato enormemente il procedimento legislativo. In nome di una maggiore efficienza dello Stato e si riporta tutte le competenze che la riforma del 2001 aveva dato alle regioni si riportano a Roma e sappiamo che la classe politica romana a livello centrale non ha dato certamente prove di efficienza. Quindi abbiamo onestamente questo imperativo morale che è quello di far sapere alle persone come stanno le cose al di là della propaganda.